C'è le medici e endocrinologi italiani, endocrinologo e diabietologo dell'Asla di Napoli. La tiroide è particolare perché influisce un po' su tutto l'organismo. Sono tantissime le patologie riconducibili proprio a questo organo. Sì, questo screening di oggi è particolarmente importante proprio perché si va a calare in una dimensione di medicina preventiva in cui nell'età studiata della popolazione scolastica di Salerno e in un range tra i 10 e i 12 anni lo studio della funzione tiroidea, delle caratteristiche morfologiche della tiroide attraverso l'esame ecografico consente da un lato di valutare lo stato di salute metaboliche e ormonali tiroidea dei ragazzi e dall'altro di intercettare l'eventuale presenza di una patologia tiroidea di tipo nodulare o di altra natura che naturalmente attraverso questo tipo di esame può essere intercettata e utilmente quindi prevenuta soprattutto nel rischio peraltro poco poco rilevante dal punto di vista epidemiologico di tumori della tiroide. Quindi da questo punto di vista si vanno a coniugare da un lato l'esigenza di uno studio dell'assetto endocrinometabolico dei ragazzi e dall'altro in un ambito virtuoso di medicina preventiva fatto ovviamente nella fascia d'età più opportuna proprio perché è quella di ragazzi in crescita che vanno incontro ovviamente allo sviluppo puberale e quindi all'adolescenza. Dottore i genitori per immaginare che possa esserci una disfunzione della ghiandola tiroidea cosa dovrebbero guardare nei propri figli? Beh da un lato ma questo credo che il genitore lo faccia la crescita staturale del proprio figlio e parallelamente ovviamente essendo la tiroide un organo del collo quindi facilmente visibile nell'eventualità di aumenti di volume naturalmente l'aspetto morfologico del collo del proprio ragazzo e questo consente già ovviamente attraverso un esame fisico di intercettare il problema. Naturalmente l'altro aspetto è quello della valutazione funzionale quindi è evidente che un ragazzo sveglio, attento capace ovviamente di gestire la propria giornata di studi e un ragazzo che sicuramente gode di una buona funzione tiroidea deve ovviamente far sospettare in qualche problema l'eventuale condizione di amnesia, di astenia di una condizione di rallentamento diciamo in generale di tutte le funzioni che potrebbe naturalmente far pensare a una ridotta funzione della tiroide, un ipotiriorismo e per converso l'esatto opposto, l'ipertiriorismo in cui tutte le funzioni sono accentuate e quindi nervosismo, tremore, tutti i sintomi caratteristici che possono orientare per una diagnosi quindi il genitore naturalmente attraverso questo screening ecografico può ovviamente sapere della propria salute tiroidea del figlio e crescendo si arriva anche all'età della pubertà dove magari le ragazze potrebbero avere dei problemi alla sfera genitale o anche all'apparato cardiaco è tutto un po' collegato? Assolutamente sì, la tiroide è un organo fondamentale per l'armonico e equilibrato accrescimento del giovane e quindi da questo punto di vista la funzione corretta di questa ghiandola garantisce che le altre ghiandole endocrine e in generale tutti i meccanismi della crescita staturale oggi è tiroidee, tra i ragazzi si è andato a fare uno screening quest'anno sono in numero anche sostanzialmente superiore? Sì, siamo riusciti innanzitutto a mantenere questa giornata è un motivo sicuramente di pregio ed è importante siamo arrivati a screenare circa 300 ragazzi di quattro zone diverse della città di Salerno e con il passare degli anni notiamo sicuramente sempre più richiesta e sempre più cultura cioè approfondimento e conoscenza da parte dei genitori su questo argomento e devo dire notiamo anche una elevata familiarità nella gran parte delle ecografie che abbiamo praticato stamattina ricordiamo che l'ecografia è uno strumento utile, semplice, innocuo che dà delle informazioni fondamentali sullo studio della ghiandola può appunto prevenire patologie quali le tiroiditi patologie infiammatorie o patologie nodulari o il vero e proprio gozzo che è l'incremento di volume della ghiandola tiroide ebbene dicevo abbiamo notato un incremento della familiarità delle malattie della tiroide nei ragazzi che sono stati sottoposti allo screening Cosa dovranno fare ora questi ragazzi? perché una volta stabilito il tipo di patologia bisognerà poi adeguarsi Assolutamente, l'ecografia è solo il primo passo il primo movens diciamo della parte della prevenzione già stamattina abbiamo dato le indicazioni laddove abbiamo ritenuto opportuno e necessario abbiamo consigliato il prosieguo ossia il prelievo di sangue per valutare oltre appunto la morfologia e quindi la struttura della ghiandola che ripeto si fa con l'ecografia la funzione si studia attraverso il prelievo ematico e quindi gli ormoni tiroidei e la valutazione anche degli anticorpi per eventualmente evidenziare una possibile insorgenza di tiroidite Professore, per un genitore è sempre difficile ammettere che il proprio figlio possa avere una malattia come prendono questo tipo di screening nelle scuole e qual è la reazione dei genitori quando si dice loro che potrebbe esserci una patologia tiroidea? Dicevo, lo prendono molto bene perché sono stati, se volete, accompagnati in questi anni educati proprio alla prevenzione quindi c'è una grandissima rispondenza questa mattina nella tavola rotonda qui al comune ci aspettiamo oltre 500 cittadini perché la caratteristica oltre al momento pratico dello screening ossia l'esecuzione dell'ecografia vede un momento di crescita e di approfondimento culturale e sociale gli esperti, noi diciamo ricercatori, esperti alla materia risponderemo in modo semplice non eccessivamente tecnico a domande di tutta la popolazione Il professore Raffaele Volpe primario dell'endocrinologia del Cardarelli da anni anche lui è in campo per combattere le patologie tiroidee soprattutto per diffondere quello che è il tema della prevenzione oggi per esempio gli operatori che materialmente hanno fatto l'epografia agli studenti salernitani vengono proprio dal suo reparto Sì, sì, anche sempre dei miei collaboratori partecipano come ecografisti a fare lo screening non solo a Salerno, veniamo anche da alcune indagini che abbiamo fatto in scuole del Casertano perché aiutiamo un po' l'associazione Atta Campania che è quella dei tumori della tiroide e l'associazione Terra dei Fuochi che si muove molto nel volontariato per cercare di portare questi screening di esaminare quanto più ragazzi possibili che ne abbiamo pensato che la scuola media è il target principale più importante soprattutto la prima media per prevenire delle patologie già che esistono già in questa fascia di età e ci consentono di prevenire patologie anche molto gravi e siamo noi pronti come aziende pubbliche ad accogliere i casi più importanti completando quegli interdiagnostici che a volte portano all'aco aspirato portano poi ad operare i ragazzi come noi facciamo Ecco, professore, proprio per quanto riguarda gli interventi Naturalmente un genitore se viene a sapere che al proprio figlio occorre operare, togliere magari la tiroide diventa per un genitore un dramma vogliamo spiegare a questi genitori che si può vivere tranquillamente, serenamente con ovviamente terapie di supporto e sostitutive E' un dramma da una parte dall'altro deve essere anche un sollievo perché arrivare in tempo a risolvere un problema è una grande conquista che noi portiamo in questi anni che prima non si facevano gli screening non si conoscevano tante cose adesso sappiamo l'impatto tossico ambientale riusciamo a prevenire con una sana educazione alimentare cerchiamo di fare gli screening curare, visitare questi ragazzi delle nostre strutture pubbliche che accolgono arrivare a una diagnosi precoce significa anche salvare un ragazzo da una grande disfunzione ma anche la vita a salvare perché spesso sono delle neoplasie maligne che sono diagnosticate in tempo e che portano sicuramente alla guarigione nella maggior parte dei casi Professore, chiunque si può rivolgere alla sua struttura presso il Cardarelli? Certamente ci sono delle prenotazioni ovviamente questi eventi servono anche per stimolare i politici che spesso negli anni poco hanno fatto diciamolo perché spesso noi arriviamo con il nostro volontariato dopo l'ospedale andiamo nei paesi sono stato a Succivo a Castelvolturno andrò sabato prossimo il 4 aprile se venite alle 2 nella scuola media di Lusciano dove noi vedremo sicuramente molte patologie in questi ragazzini quindi arriviamo dove non arriva purtroppo l'ente pubblico o meglio le strutture autosanitarie che dovrebbero coordinarci allora cerchiamo anche di stimolare i politici a rafforzare le strutture a fare prevenzione non solo a parole con i fatti perché abbiamo bisogno di più operatori sanitari rafforzare questo settore che richiede molto molto diciamo diciamo molti sanitari che dovrebbero coordinare con noi lavorare noi abbiamo abbiamo dell'equip molto esigue siamo poche persone affrontare tutte queste problematiche diventa complicato quindi ci auguriamo che ci rafforzino le strutture le autorità fanno sentire la loro presenza anche magari in settori che non sono proprio direttamente inerenti la carica specifica Andrea Annunziata presidente dell'autorità portuale è qui presente per testimoniare anche lui l'importanza della conoscenza e della diffusione in tema di prevenzione esatto potrei anche non dire più niente però voglio dire che sono qui anche perché già abbiamo messo giù un protocollo di intesa per il controllo delle malattie della pelle per quanto riguarda chi lavora nel porto esposto al sole e a tutti i fattori climatici particolari e compresi anche tutto l'ambito portuale quindi non solo i portuali ma anche tutto il quartiere porto lancerò voglio lanciare un'idea del genere anche per per la tiroide per le malattie connesse è evidente che sono problemi importantissimi per cui è giusto testimoniare stare qui per per applaudire chi si impegna sul piano delle malattie come la tiroide per le fasce sociali più deboli ed è sia la convenzione europea che la nostra costituzione che assicura un diritto di salute è vero e questo mi sembra che si faccia costituzione cardiochirurgo cuore tiroide è purtroppo un binomio eh sì sono strettamente associate le patologie della tiroide con problemi di tipo cardiaco è importante appunto questo screening appunto che si fa nelle scuole perché conoscere per tempo le malattie tiroidee impedisce poi che questa ghiandola è molto importante e possa avere effetti nocivi su altre parti del corpo come il cuore molte patologie cardiache possono essere associate a disfunzioni tiroidee in particolar modo le aritmie addirittura in forme misconosciute si può portare fino alle disfunzioni diastoliche del ventricolo sinistro fino anche a miocardiopatie che portano all'insufficienza cardiaca vera e propria e questo si può verificare anche nei ragazzi nei giovani ma non tanto che si possa verificare nei giovani ma riconoscere per tempo queste patologie impedisce poi che nell'età evolutiva e con l'età adulta queste patologie che a questo livello sono subcliniche possono sfociare in problemi di ordine clinico più importante dottore questo significa però che la interconnessione tra le varie branche della medicina è fondamentale l'interconnessione è importante ma se mi permette è molto importante quello che stiamo riuscendo ad ottenere con il dottore Orio da ormai il quarto anno ci tengo a sottolineare che è una come si dice in questi tempi un intervento strutturale non è il solito intervento della giornata con l'effetto alune abbiamo fatto no questo è il quarto anno abbiamo schinato ormai in quattro anni più di mille bambini delle prime medie del comune di Salerno e in collaborazione col comune che ci dà un grosso aiuto stiamo facendo una serie di iniziative di portare proprio gli specialisti nella scuola si notava stamattina che tutti questi bambini erano sorridenti felici contenti di farsi controllare perché il fatto di arrivare con gli specialisti nella scuola forse evita anche quello stress quella difficoltà del bambino quando ha l'ospedalizzazione l'incontro di stamattina è molto importante perché affronta un problema a cui non si dà di solito il rilevo dovuto noi d'Italia parliamo di curare gli ammalati di curare l'ospedale ma della prevenzione non se ne parla in un paese civile la prima cosa a cui si dovrebbe pensare è la prevenzione che significa appunto evitare di ammalarsi anche da un punto di vista economico perché se si spendessero somme per evitare le malattie alla fine si risparmierebbe molto perché si spenderebbe meno per curarle questo concetto elementare che negli altri paesi è regola di vita in Italia stenta purtroppo ad affermarsi la manifestazione di stamattina innova è un po' una reazione a questo stato perché si parla di prevenzione di una malattia della tiroide che come tutti sanno è una ghiandola fondamentale per lo sviluppo soprattutto dei bambini e che viene deplorevolmente trascurata grazie